Mi è mai capitato di essere invitati da un amico o un'amica salutista e quando chiedete qualcosa da bere vi offre un estratto di frutta e di verdura dal colore marrone, verde, grigio e dal sapore improbabile? A me è capitato, ma solo perché non conosceva le 5 regole di base per fare un buon estratto. Fate vedere anche voi questo video ai vostri amici, lo consiglio. Anche tu ami i centrifugati, gli estratti, i succhi e hai deciso di darti alla salute da bere? Ottima decisione, hai tutto il mio appoggio. Ma lo sapevi che per fare un estratto equilibrato e soprattutto buono di sapore ci sono alcune regole fondamentali da seguire? Io seguo sempre 5 regole importantissime che fanno la differenza tra un estratto che bevi per dovere e un estratto che bevi per piacere. Perché voglio rivelarli in questo video? Perché come naturopata ho motivato moltissime persone a bere gli estratti, ma poi mi hanno detto che facevano dei succhi sicuramente sani ma imbevibili dal punto di vista del sapore. E così si sono autodemotivate. E siccome il mio motto è mai demotivarsi quando si tratta della tua salute naturale, ecco perché ho voluto fare questo video. Ti spiegherò le 5 regole per fare un buon estratto, seguito da una buonissima ricetta di un estratto completo e gustoso. La prima regola è la più importante. Ricordatevi che scegliere e abbinare la frutta e la verdura per un estratto è come scegliere e abbinare gli ingredienti per una ricetta di cucina. Non basta buttare in una pentola un po' di questo, un po' di quello per fare un buon piatto. Bisogna abbinare bene i sapori. E lo stesso vale per fare un buon bicchiere di estratto. La seconda regola, bisogna conoscere bene i sapori per mescolarli e contrastare bene i sapori. Un estratto ben bilanciato deve contenere un po' di sapore dolce e un po' di sapore aspro. Una o più radici, una verdura preferibilmente verde, qualche erba aromatica o sapore piccante e un ingrediente molto acquoso che produca abbondante succo. Ecco degli esempi, sapore dolce, mele, pere, uva, melone, kiwi, mango, sapore aspro, limone e lime. Ananas, arance, fragole, ribes e frutti di bosco a volte sono dolci e a volte sono aspri, quindi vi consiglio di assaggiarli prima. Le radici sono carote, barbabietole rosse, rape e pastinaca. Le verdure verdi con molta clorofilla sono spinaci, lattuga, cavolini, broccoli, bietole, coste, tarassaco, germogli verdi e poi ci sono tutte le altre verdure utili. Gli elementi molto acquosi sono per esempio cetrioli, finocchi, sedano, pomodori, melone e anguria. Le erbe aromatiche, basilico, prezzemolo, coriandolo in foglie, menta, citronella e la nota piccante è data da zenzero e peperoncino, da usare con giudizio. Terza regola, assaggiare sempre e regolare il sapore. Adesso che vi ho spiegato la formula di base, quante variazioni pensate di poter fare? infinite. E proprio come quando si cucina bisogna mescolare bene, assaggiare e se serve regolare il sapore. Nell'estratto manca il tocco di una nota aspra? Basta aggiungere un po' di limone. O al contrario il succo è troppo aspro? Un pezzo extra di mela andrà bene, se il sapore è troppo piatto basta un po' di zenzero o un pizzico di peperoncino. Con questi consigli i vostri estratti saranno un vero successo e per avere tanti altri consigli di salute naturale e stare sempre bene, basta iscriversi al mio canale con un clic. Quarta regola, buccia o non buccia? In molti casi va bene lasciare la buccia per assimilare tutti i nutrienti, ma bisogna fare attenzione a due elementi. Primo, bisogna avere un estrattore abbastanza potente che non si intasi con la buccia, altrimenti è controproducente metterla. Secondo punto, bisogna usare solo prodotti biologici o del proprio orto e comunque essere certi che non sono stati trattati, perché la chimica contenuta nella buccia non è un buon ingrediente per l'estratto. Come regola generale comunque non usare la buccia, si può alterare il gusto come quella degli agrumi o il colore del succo. Quinta regola, anche l'occhio vuole la sua parte. Si mangia e oggi dico si beve anche con gli occhi in questo caso. Non fate un estratto grigio o marrone, a meno che non lo mettiate in un bicchiere o una tazza rigorosamente opachi, soprattutto se volete coinvolgere i figli o il partner in questa buona abitudine. Quando si mescolano gli ingredienti bisogna tenere conto anche del colore finale. Per esempio, se dovete dolcificare un succo verde, meglio usare la mela o la pera e non le fragole. E ora la mia ricetta preferita per un estratto davvero salutare. Ricco di enzimi vitali, vitamine, minerali, clorofilla, antiossidanti, fitonutrienti e tanto sapore. Mettete frutta dolce come una pera e una mela, mezzo limone senza buccia, due carote, una manciata di spinaci freschi, un cetriolo e un pezzetto di zenzero. Che sapore ha? Provatelo! E scrivete qui sotto nei commenti che cosa pensate. E se venite presi da un impeto creativo, scrivete le vostre variazioni. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete questo video sui social e con i vostri amici, così quando vi offriranno un estratto sarete più sicuri che sarà buonissimo. Aspetto di leggere i vostri commenti, le vostre domande e le vostre esperienze. E se volete approfondire questo argomento, andate nel mio sito all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!